Vediamo i risultati delle elezioni del Presidente del Consiglio. Voti espressi per l'elezione del Presidente del Consiglio 28. Schede bianche 7. Schede nulle 2. Voti espressi Diego Parodi 18. Lorenzo Lagorio 1. Va bene, quindi è eletto Presidente del Consiglio il Consigliere Diego Parodi. Cui lascio subito lo scranno. Grazie. 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 Volevo solamente ringraziare l'Aula per avermi eletto. Questo per me è un grande onore sedermi su questa sedia e cercherò di fare il massimo per la mia città e per tutto il Consiglio Comunale. Grazie. E ora passiamo all'elezione del Vicepresidente. Dottor Casano, quali le considerazioni sul Consiglio Comunale dove si è discusso di questo problema di maggioranza e si è proceduto all'elezione del nuovo Presidente della Sise? L'elezione del Presidente ha lasciato l'evidenza che tutto è in continuità. Cioè abbiamo visto che era un'elezione blindata ed è in completa continuità, io ho detto addirittura quasi ereditaria, in quanto passa da una forza politica alla medesima forza politica, la quale però aveva lasciato quella poltrona in segno di protesta. Quindi non si capisce dove sia la logica politica di questo trasferimento di poltrona, se non proprio in un discorso semplicemente di interesse politico. C'è una crisi di maggioranza secondo lei? Noi l'abbiamo chiesto, abbiamo portato avanti questa richiesta nei confronti del Consiglio Comunale, ci è stato risposto che è tutto a posto, è tutto normale, però io penso che i cittadini si accorgano che l'azione politica attuale è improntata soprattutto alla ricerca di equilibri per mantenere questa alleanza che si fonda comunque sulla spartizione del potere. Grazie a tutti.